La sede sociale figurava essere a Padova, ma le loro attività erano tutte nel napoletano. La scelta della città eugana era stata fatta per poi richiedere l'iscrizione nelle cosiddette white list della prefettura per ottenere la documentazione antimafia. I controlli del gruppo Interforce coordinato dalla prefettura di Padova hanno però intercettato una ditta di trasporto rifiuti di Napoli che risultava vicino alla camorra e per questo è scattata l'interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Padova, Raffaele Grassi. L'azienda ha sede a Padova, ma svolge la sua attività esclusivamente nella provincia di Napoli. Le indagini hanno consentito di accertare che l'impresa e altre società già attive negli stessi appalti a loro volta interdette dalla prefettura di Napoli sono vicine alla camorra. Per aggirare i controlli antimafia avevano aperto così una sede sociale a Padova con conseguente richiesta di iscrizione nelle white list della prefettura, ma gestivano esclusivamente appalti fuori provincia. Salgono a sette le interdittive antimafia dotate dal prefetto Grassi negli ultimi due anni. L'obiettivo è quello di recidere i tentativi di penetrazione delle organizzazioni criminali in un contesto economico particolarmente frolido, quale quello Padovano ha scritto in una nota al prefetto.